... ... ... Si sta allora come non è andato perché i prossimi passi sarà una miglior definizione delle azioni che può dare un'azione bandiera, quindi un pochino simbolica e rappresentativa, ma è necessario ancora entrare in dettaglio e in questo senso ci sono state interlocuzioni in corregione con i fialenti rispetto ad alcune azioni che dovevano essere accompagnate per gli occhi e similari e soprattutto le tappe prossime saranno preventivamente concluse dentro l'anno della sottoscrizione prima di un protocollo di intesa e poi di un accordo di programma con la regione. Da lì si potrà comprendere bene l'avvio dei finanziamenti, sapete che un azione è un progetto che si snoda da 2021 al 2027, quindi ci sarà anche la sequenza degli interventi che si erano previsti, i finanziamenti che arriveranno, con la precisazione che ci viene fatta in continuazione da regione rispetto al fatto che i soldi danno stessi e i protogliere sono fondi in parte quasi tutti europei, non al piano nazionale dell'esistenza e dell'esistenza, fondi che ci sono sequestrati sulle FSE e che quest'opera sono stati vincolati da regione di un quartier in modo particolare su questa strategia. Questa è la cosa che mi sta provando. Da punto di vista sostanzialmente ci si stanno attivando tutta una serie di iniziative di partecipazione, in modo particolare e lineare che le inizioni rimane anche l'estate con le scuole, che sapete sono uno dei principali fondamentali. È proprio l'approccio che vogliamo dare a questo progetto, che si differenzia da altri, da altri, da altri. Un approfcio sistemico, quindi non stiamo pensando alle singole azioni italiane, ma stiamo pensando all'insieme delle azioni. Come l'area, ad esempio. Come sapete che una delle aree primarie è la pagnazza. Lì non è che silenzio di fare l'intervento sulla scuola, l'intervento sui patroni, l'intervento sulle selezioni di capite pubblici, le salto con le scuole sociali. Mi si pensa alla condivisione complessiva dell'area, che lega sia l'assetto di organizzazione, ma soprattutto l'assetto di vita, di qualità della vita. Grazie a tutti.